Benvenuti nel canale Fabio Picce. Fabrizio Corona pubblica, un post sul suo canale Telegram ufficiale scrivendo di Antonino Spinalbese e pubblicando questa foto poi quanto segue in breve. Lo strano caso del corpo di Antonio Spinalbese ha sempre affascinato e incuriosito. Da quando è stato in compagnia di Belen Rodriguez, ho notato una struttura insolita, quasi da nano da circo, con gambe corte e braccia più corte del busto. Nonostante ciò, Antonio non si preoccupa e anzi, decide di sfruttare il suo corpo per comunicare, lanciando una linea di costumi. La sua abilità nell'essere sotto i riflettori è evidente, ogni storia calcolata per finire sui giornali e trarne vantaggio economico. Stefano De Martino ha seguito le sue urme, utilizzando con successo la strategia delle relazioni pubbliche per vendere i suoi servizi. Un caso intrigante, che dimostra, come il corpo, possa diventare un mezzo di comunicazione e guadagno. Antonino ha intrapreso una carriera commerciale inizialmente con Elena Prestes, una concorrente dell'Isola dei Famosi. Successivamente, ha continuato a rendere pubblica la sua vita privata, pubblicando foto della sua bambina, con Belen e passando poi a Giorgia Torrini, a cui aveva promesso un amore folle e regalato un anello, dichiarando addirittura che fosse del padre. Infine, ha iniziato una relazione con la famosa ex Miss Italia Carolina Stramare, ma ha impiegato molto tempo per renderla ufficiale, poiché non la riteneva all'altezza mediatica. Mi chiedo solo, all'altezza di chi? Recentemente, Antonino ha pubblicato una storia sui social media, che è stata poi rimossa, non per nascondere la notizia, ma perché avrà notato, che la sua faccia era stata modificata in modo sgradevole con Photoshop?